Vi presento un prodotto altamente tecnologico, Nokia 3310. In realtà viene da sorridere, vedendo questo prodotto così piccolo, così semplice, che ha generato un hype pazzesco al momento della sua presentazione, ma in realtà ha poca tecnologia al suo interno. C'è l'effetto nostalgia molto forte per un prodotto che richiama uno dei più venduti della storia della telefonia, però diciamo che a quel punto lì noi ci fermiamo. Ma che cosa c'è esattamente in questo smartphone che arriva sul mercato a 59 euro? Diamo un attimo un occhio da vicino, rimane sempre il dubbio se gli utenti di 3 riusciranno ad utilizzarlo oppure no, lo scopriremo solo vivendo, teoricamente con il nuovo roaming con Wind dovrebbero riuscirsi senza problemi. Lo vedremo comunque. Intanto vediamo il registro delle chiamate, i contatti, foto ricevute, la possibilità di suonare, insomma di riprodurre dei video, il browser mini, opera mini tra l'altro, che ha anche un suo piccolo store con dei plug-in che si possono aggiungere, messaggeria, e poi uno dei graditi ritorni, ovvero quello di Snake che vediamo nella versione 2017, leggermente rinnovato nella grafica rispetto a quello con lo schermo con diversi livelli di grigio, però insomma anche in questo caso niente di straordinario dal punto di vista tecnologico. Certo rimane il fatto che abbiamo giocato per ore e ore e ore con questo prodotto. Possibilità di riprodurre musica che si può memorizzare ovviamente sulla propria microSD, mentre per quanto riguarda la fotocamera vediamo possibilità, adesso io ho il dito sulla fotocamera, di scattare immagini, questo è il menu che ci permette di passare alla videocamera, controllare la brillantezza, la luminosità delle immagini, poi aggiungere anche dei piccoli effetti alle immagini che vedete con il colore sepia, con la tinta grigia, la tinta blu, tutto questo ovviamente con il menu opzioni che avete a disposizione. C'è anche il burst mode, quindi potete scattare più foto tenendo il pulsante per scattare le foto premuto. Fotocamera da 2 megapixel, mentre sulla parte inferiore vediamo del telefono batteria da 1200 mAh, microSD e anche una scheda microSIM, attenzione che la nanoSIM non funziona, ci vuole un adattatore. L'altoparlante viene messo in questa posizione leggermente sopraelevata, la parte inferiore con l'attacco da 3 mm e mezzo, mentre dalla parte opposta c'è il connettore, un microUSB per collegare il proprio telefono e ricaricarlo. C'è una parte con i giochi che vengono installati, vedete sul proprio telefono di default, trovate Asphalt 6 e Diamond Twister, c'è poi la possibilità di aggiungere anche altre piccole applicazioni per quanto riguarda dunque il nuovo Nokia 3310. Ancora la radio FM inserita, lo spazio invece dedicato ai settaggi e andando avanti le previsioni del tempo, l'unica concessione un po' avanzata che questo telefono si dà, e infine il calendario. Ecco, teniamo conto, guardate i tasti tra l'altro in questo caso quando sono illuminati in questa colorazione i numeri non si vedono benissimo, in realtà con l'illuminazione spenta si riesce a vedere meglio il contrasto, ecco forse lo vedete adesso, il contrasto tra il grigio e la parte praticamente trasparente del numero. Si scrive con il vecchio T9 che insomma ci mancava tantissimo e che abbiamo usato spesso in passato. 59 euro in uscita proprio in questi giorni anche da noi, ormai manca pochissimo per l'arrivo sul mercato, eccolo è il Nokia 3310.